La pace dei santi sia con voi. Il 16 agosto la Chiesa celebra la memoria di San Rocco, pellegrino e taumaturgo. Le fonti su di lui sono poco precise e rese più oscure dalla leggenda. In pellegrinaggio diretto a Roma, dopo aver donato tutti i suoi beni ai poveri, si sarebbe fermato ad acqua pendente, dedicandosi all'assistenza degli ammalati di peste e facendo guarigioni miracolose che diffusero la fama di Rocco. Pellegrinando per l'Italia centrale, si dedicò ad opere di carità e di assistenza, promuovendo continue conversioni. Sarebbe morto in prigione dopo essere stato arrestato presso Angera da alcuni soldati perché sospettato di spionaggio. Invocato nelle campagne contro le malattie del bestiame e le catastrofi naturali, il suo culto si diffuse straordinariamente nell'Italia del Nord, legato in particolare al suo ruolo di patrono contro la peste. Buono nomastico a tutti coloro che portano il nome di San Rocco ed auguri a quanti il 16 agosto festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.